L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, composta da 17 obiettivi, da 169 target che il nostro Paese si è impegnato a raggiungere entro il 2030, è un'agenda complessa. È un'agenda che tratta temi sociali, economici, ambientali e istituzionali. Qualcuno dice che è un'agenda troppo complessa, perché parlare di povertà, alimentazione, salute, educazione, disuguaglianze, comprese quelle di genere, crescita economica, innovazione, ambiente, governance e troppo. In realtà lo ricorderemo, spero, nel futuro come il punto più alto di accordo tra tutti i Paesi del mondo, sul mondo che vogliamo. Non a caso l'origine dell'agenda per lo sviluppo sostenibile è la famosa relazione della Commissione Brundtland nel 1987, il futuro che vogliamo. Tema ripreso proprio dalle varie conferenze internazionali. Possiamo volere un futuro in cui l'acqua, elemento cruciale per la vita del pianeta, per la vita dell'uomo, non abbia un ruolo centrale? E quando parliamo di acqua non è soltanto l'acqua corrente che esce dai nostri rubinetti di noi che viviamo in città, ma è l'insieme degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi dell'oceano, degli ecosistemi terrestri, perché l'acqua è appunto un elemento fondamentale di tutta la nostra vita. E dunque il fatto di aver dedicato all'acqua ben due goal. Il primo ha a che fare con il sesto goal, quello dedicato proprio alla qualità dell'acqua, ma anche dei servizi igienico-sanitari. E poi il quattordicesimo goal, la qualità degli ecosistemi, basati in particolare appunto sull'acqua, testimoni a questa importanza. E a che punto siamo? Beh, sappiamo che l'acqua a livello planetario sta diventando una risorsa scarsa, una risorsa che genera conflitti e che genererà ancora più conflitti, oltre che immense migrazioni, perché con i cambiamenti climatici l'acqua appunto scarseggerà. Questo pone problemi economici di straordinaria importanza, ma anche problemi politici di grande rilievo. Sarà un po' la risorsa scarsa del futuro e dunque è naturale che alcuni si preparino in modo cooperativo per affrontare questa tematica e altri invece pensino già a come conquistare posizioni di forza per poter controllare le risorse da cui dipenderà il nostro futuro. L'Italia da questo punto di vista ha una situazione che in parte è positiva, ma in parte estremamente negativa perché sappiamo che la qualità dei nostri ecosistemi acquatici è peggiorata. Quello che più preoccupa dai dati che l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile elabora sulla base di statistiche ufficiali è che per l'obiettivo 14, proprio in occasione dell'aggiornamento dei nostri indicatori compositi all'anno 2017 che abbiamo pubblicato qualche settimana fa, per questo obiettivo non siamo riusciti ad avere dati aggiornati. Questo già ci dà un'idea dell'attenzione che come Paese poniamo a questa risorsa straordinaria. È un pessimo segnale. Gli sforzi che adesso Ispra e altri soggetti stanno facendo per migliorare la nostra capacità di misurare per esempio la qualità dei mari, ma anche delle falde acquifere, dei nostri fiumi, dei nostri laghi, fanno sperare che questa situazione possa migliorare. Ma oggi sappiamo che questi dati mancano e se mancano questi dati abbiamo problemi nella programmazione. Se invece andiamo sull'obiettivo 6 e quindi pensiamo alle reti idriche, sappiamo che nel nostro Paese sprechiamo tantissima acqua. Abbiamo delle reti con l'abbrodo, soprattutto in alcune regioni. Ed è un bene da questo punto di vista che la legge di bilancio 2019 abbia previsto una serie di investimenti, ma come abbiamo notato in occasione del lancio di questa analisi, comma per comma, di tutta la legge di bilancio alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sappiamo che questi investimenti non sono al momento parte di un quadro complessivo, generale, pluriannale di strategia per dotare il nostro Paese di acqua. E quando dico una strategia per dotare il nostro Paese di acqua, non mi riferisco solo all'acqua potabile, naturalmente mi riferisco anche all'agricoltura, mi riferisco a tante attività umane e non che ruotano intorno all'acqua. Dunque, qualche passo in avanti c'è, ma abbiamo bisogno di accelerare, anche perché il cambiamento climatico sta accelerando. E sappiamo che il nostro territorio, il nostro Paese, soprattutto alcune aree del nostro Paese, sono a forte impatto del cambiamento climatico. Come in alcune aree del mondo, l'agricoltura si sta già preparando a spostarsi a causa del riscaldamento globale. Nel nostro Paese sappiamo che il mezzogiorno sarà particolarmente colpito da questi fenomeni, ma anche altre aree del nostro Paese che hanno già sofferto in questi ultimi 3-4 anni, in cui, lo ricordiamo, abbiamo raggiunto le temperature più alte in Italia, mai raggiunte dall'inizio delle misurazioni e dunque abbiamo bisogno proprio di una strategia nazionale per operare in questa direzione. Qui le competenze sono molto diverse, tra il Governo nazionale, le regioni, ma anche gli enti locali. Ed è qui dove abbiamo cercato di spingere il Governo, le regioni, ma anche le città, in particolare le città metropolitane, a operare insieme sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In parte questo sta avvenendo, tutte le regioni dovrebbero realizzare dei piani regionali di sviluppo sostenibile, delle strategie regionali, ma quello che manca è il coordinamento nazionale. Abbiamo insistito negli ultimi tre anni come alleanza per lo sviluppo sostenibile per andare proprio in questa direzione. Il Governo da un lato ci ha detto di sì, ma anche il precedente, e poi stentano ad arrivare le azioni concrete. Le riflessioni che state facendo oggi possono aiutare non solo una regione, ma tutto il Paese a trovare sistemi di governance, sistemi di programmazione, una collaborazione tra diversi soggetti per assicurare che questa risorsa indispensabile per la vita nostra e del pianeta sia gestita bene, sia gestita anche in modo da pensare alle future generazioni e diventi e resti quella straordinaria linfa di vita che il nostro pianeta genera quotidianamente e che noi umani non possiamo sprecare. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.